La pace sia con voi. Maestri, cari amici, è importante osservare e mettersi all'ascolto. Attraverso il contatto con l'altro da voi finalmente conoscerete la vastità delle vostre creazioni e vi accorgerete di come Dio ha separato nella manifestazione l'uno dall'altro creando il gioco della guerra e vi accorgerete a tutti e vi accorgerete e vi accorgerete